Un lungo tappeto rosso, lungo 88 metri, è il filo che collega alle varie installazioni di Semi Balogine nell'andito degli Angioini a Palazzo Pitti. Il progetto espositivo costituisce il punto di arrivo di una ricerca avviata dall'artista a partire dal 2016 nelle collezioni di diversi musei del mondo e che approda adesso alla reggia medicia di Firenze. Le opere site specific dell'artista dialogano con materiale d'archivio e opere dal Congo, in prestito dal Museo di Antropologia ed Etnologia di Firenze e dal Museo delle Civiltà di Roma, oltre che dalle Gallerie degli Uffizi. Un cammino che evidenzia sala dopo sala la complessità dei dialoghi intrecciati tra Congo, Europa rinascimentale ed Europa moderna. Un intervento artistico del maestro Semi Balogine, proveniente dal Congo, che si mette in dialogo con le opere che sono arrivati nel Cinquecento, proprio dalla moderna Repubblica del Congo a Firenze, da Cosimo I dei Medici, per metterle in discussione delle narrazioni calcificate che sono associate a queste opere. una cosa estremamente interessante che guarda verso un futuro di scambi più equi, paritari, e non quelli dei secoli, specialmente dell'Otto e Novecento, che erano verticali nell'ambito del colonialismo. In Gnosis, installazione ispirata alla Sala delle Carte Geografiche di Palazzo Vecchio, Balogine esplora il concetto di Wunderkammer, ovvero Stanza delle Meraviglie, inquadrando le collezioni rinascimentali di Mirabilia e Naturalia e la nascita dei moderni musei antropologici ed etnografici italiani. Le lettere del re Alfonso I del Congo al sovrano portoghese Emanuel I parlano di una relazione paritaria ed orizzontale tra Europa e Africa, che ribalta la narrazione esotica divenuta in seguito predominante. Infine, la decorazione del tappeto dell'installazione The Crossing traduce i motivi geometrici e a fasce circolari di quattro preziosi olifanti, trombe cerimoniali d'avorio interziate che provengono dal tesoro dei granduchi di Palazzo Pitti. Tutto è iniziato quando ho scoperto, facendo ricerche, che parte degli olifanti sono venuti dal Congo nel 500 per Cosimo e sono parte della collezione degli uffizi. Quindi sono stato intrigato dalla storia di come sono nate le relazioni tra il Congo e l'Italia e anche il Portogallo. Questo mi ha portato a lavorare qui.